È sulla speranza che il Vescovo in cattedrale concentra la riflessione nel giorno di Pasqua. È una chiesa straordinariamente vuota, tra le panche siedono distanti i seminaristi e in forma speciale il sindaco di Chiavari. Monsignor Tanasini spiega che Gesù è il riferimento della vita. L'invito a seguirlo è quotidiano attraverso il Vangelo, anche in questo periodo difficile segnato dall'emergenza sanitaria. Questa notte abbiamo detto che la luce risplende nelle tenebre, l'hanno squarciata e allora viviamo secondo questa luce. Vivere secondo questa luce vuol dire credere che se ci ha dato il suo figlio ci darà ogni cosa insieme con lui. Vuol dire affidarci a lui, vuol dire avere una speranza sicura, vuol dire non venire meno di fronte alla prova, vuol dire davvero credere che si risorge. Anche nella veglia pasquale il Vescovo torna sull'ascolto della parola come via per comprendere il mistero della Ressurrezione. Parola, battesimo, eucaristia. Tre strade per lasciarsi alle spalle l'uomo vecchio e diventare persone nuove in Cristo. Un invito da seguire sempre, ogni giorno. Ricordati che la Pasqua non è di un giorno festivo, non è di una veglia notturna. Ricordati che la Pasqua è continua nella tua vita, è continua tutte le volte che tu ti impegni a vivere la tua condizione battesimale di figlio di Dio. Tutte le volte che in un qualche modo muore a te stesso per risorgere, per essere uomo nuovo. Ricordati che è Pasqua tutte le volte che ti avvicini all'Eucaristia.